oh yeah ce l'hai fatta? oh yeah yes molto bene io son morto non mi riesci ad attivare la lana marrone? si l'ho attivata? ah l'ha attivata perfetto eh sto arrivando tranquillo ci penso io buona ora torniamo indietro ora ragazzi dobbiamo fare un altro cosa vogliamo fare qua allora c'è jump boost che penso sia a questo qua si bello vieni kugiri jump boost dai andiamo oh mamma mia gianni che male oh cristo eh io son già caduto aiuto oddio ci sono le palle di slime sotto ma che che ah ok perfetto oh time easy ah no sì fantastico che bello che rimbalza ah è bello figo 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 veramente molto figo non bisogna ricordo di non cliccare shift quando si cade sul slime perché sui block di slime perché sennò non rimbalzate e vi danneggia con il solito danno accaduto ah perfetto io questa cosa qua non la sapevo pensa un po' che roba ok a questo il parkour si ma non è cioè questo ma che è ma è impossibile ma poi cos'è sta roba cos'è sta roba ah oddio bisogna premere il pulsante non riesco non riesco non riesco l'ho premuto boh ah si l'ho premuto perfetto oh shit e ma devo premere sto pulsante qua in alto guarda su si no ma è già premuto devi buttarti c'è un buchino se lo vedi se noti bene oh perfetto come fai a salire da lì sopra scusami eh devi saltare giù fino all'ultimo e farti tutto il piano ah ma che ma no ma ma oddio cioè tu non hai idea di che cosa c'è qua cioè forse tu non hai capito c'è tu non hai veramente oddio che figo cioè si è figo però non riesco a passarci io penso che fare sta cosa qui da fatti proprio ah la prossima cosa che farò oddio ma dai ma dai ma dai serio cioè gli evo si stanno divertendo mi piacerebbe capire come ma vai in mona ok ce l'ho fatta così nooo un altro si no 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 vabbè cioè possiamo anche benissimo terminare qui l'episodio dici eh hai presente parkour si mo si ah con ci ce l'ho fatta anch'io ma hai provato a far parkour da grande distanze l'hai caccato il coso? si si quindi posso scendere? io non mi preoccuperei di quella roba bellissima mi preoccuperei di quello che c'è dopo cioè tu tu non hai veramente idea non puoi capire cosa c'è dopo ok questo fatto ah perché ah c'è un altro lì ma no sono un demente proprio di quelli potenti eh no sono caduto ah bello c'è qua se non sai saltare sei morto praticamente eh moda qua qual è? destra o sinistra? ma nessuno dei due? ultimo si si oddio oddio si si fantastico si 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 tu non hai idea oh perfetto io sono ancora al primo cioè anzi no prima l'ho fatto ah c'è una nuvola bastarda che non mi fa vedere aspetta un attimo che possiamo andare finalmente ci siamo riusciti possiamo andare si guarda dove sono arrivato oh god e beh ma anch'io lì prima ci sono arrivato il problema non è quello oh no? no fidati e qual'è il problema? un attimo ok ne ho fatto un altro devo far l'ultimo ok oh ce l'hai fatta? no ole ce l'ho fatta si premuto? si e ma dove dobbiamo entrare? no penso che si ritorna giù ancora dimmi se si ritorna giù no è finito è finito? si manca rage ok no aspetta però ne manca altri forse no no fai rage fai rage prima oddio ma cos'è sta roba gesù davvero arrivo no ho visto? visto che sono? vedi? si abbiamo visto tranquillo non usi trucchi tanto per le persone che ci seguono tranquillo che in effetti non ne ho fatto niente a nessuno dai fio non ci credo e ragazzi dopo due ore non ci siamo mossi di niente però oh mio dio ce l'hai fatta? ci muoio avanti ma dov'è che devo andare la destra e la sinistra? ma io ho capito no oh ma madonna madonna signore madonna no no oh mezzo cuore della serie della serie che se cado sono morto della serie che mi piacerebbe capire ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'hai fatta? ce l'ho fatta va bene sì ma no eh sì ma che bene ragazzi ci siamo magari se attiviamo sta neva forse è meglio oh non so che cosa cambia però oh ce l'ho fatta prima oh anche il secondo ho posto oh my god vedrai il terzo oh terzo anche il terzo signore bene ragazzi Simone è già arrivato noi dobbiamo fare sto salto bellissimo ma oddio madonna che culo oddio veramente bene non so cosa facciamo saltiamo o che? eh saltiamo ok ci sono ok perfetto adesso vado io attiva sti rovi qua che non servono a niente non sappiamo cosa servono ma va bene però io vai olè ce l'ho fatta a posto va bene ragazzi allora adesso il rosso l'ultimo ci manca il rosso che abbiamo sentito che è veramente difficile se bene oddio cioè ma è tutto così? oddio oddio ma qua è impossibile è impossibile è impossibile è impossibile non è no non è normale ragazzi sta cosa ma no ma non ci credo eh son morto praticamente ovviamente con questo diciamo che allora leggiamo cosa ci dice ma no ma po ma vedi che dio santissimo il sacramento pari al padre ok io ho passato qui così oh no ma oh ragazzi sono impedito non riesco mi spiace oh oddio sono super su che l'ho fatta? che l'ho fatta? che l'ho fatta? ovviamente premilo premilo non si riesco secondo me adesso cado vedrai eh si sicuramente all'ultimo dai premi 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 premuto? non caduto ah no mi riporta qua perfetto 3 premuto premuto posto dovrebbe averci dato perfetto ce li dati tutti ragazzi ora non ci resta che fare la scalata di chi vuole essere milionario se non ci muoviamo cioè se non moriamo prima bene e secondo me lo prenderemo nel culo prima dobbiamo salire ancora? oddio cos'è sto roba mo? ma va si è creato un buco questa non l'avevo visto nooo vabbè comunque QG vai giù dai giù lì intanto si è creato un buco aaaaa oddio perfetto perfetto oh che bello tech point ah gg strano strano qui siamo fuori dal cosa praticamente si ma ora basta cioè ci siamo divertiti adesso possiamo concludere questa parte sono caduto bene praticamente muoio sempre cioè minchia non è facile non è facile non è facile guys non è facile non è facile Belini sembra facile ragazzi eh però io mi rifiuto questo di disinstallare il gioco io vi assicuro che questa non è una cosa facile cioè questa mappa è tutt'altro che facile ma proprio tutt'altro che tutt'altro cioè ve lo possiamo assicurare oh e son morto ancora son morto ancora ma dai ma dove sto andando io Simo dai oddio un pulsante sopra lo premo c'è ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta davvero c'è tutto questo casino per andare su in in cima e prendere un pezzettino di lana buono bene ragazzi allora abbiamo finito questa parte prevedete un po' di team chat perchè sta laggando particolarmente il server quindi abbiamo deciso di fare un po' di prove lag allora ah questa parte qua è nuova ah è quella roba lì che abbiamo esatto esatto si 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 is a particular challenge io studifico ah quindi se ah in poche parole diteci nei commenti se è giusto in poche parole se troviamo una una sfida troppo difficile noi possiamo prenderla e loro ce la danno gratis diciamo è come se ce la sbloccano ma solo una esatto quindi la scelta è permanente appunto dopo aver preso uno di quelli di quegli oggetti non ci sarà modo per tornare indietro perfetto quindi vabbè quindi noi comunque cioè ragazzi dice cioè allora noi per ora continuiamo quando vedremo che sarà troppo difficile la useremo quindi ragazzi per oggi è tutto mi raccomando iscrivetevi un bel like come al solito iscrivetevi al canale i nostri social network li trovate in descrizione come al solito e bello a tutti ciao 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 ciao